Non solo Baskers, nelle serate di Ferrara di fine agosto, le zone che fino all'anno scorso ospitavano il festival sono state comunque affollate da un discreto numero di ferraresi e turisti. Nella talda serata di sabato 24 agosto il listone si presentava così, pur senza la presenza di un evento particolare. Tante persone di tutta l'età hanno approfittato per un giro in centro, in una serata ancora calda e dove molti ferraresi dovevano ancora rientrare dalle vacanze. Tra un gelato, una bibita fresca e due passi, in Bersaglieri del Po l'iniziativa di un locale ha portato festeggiamenti anche per le vie del centro. Tra musica dal vivo, balli e canti, lo scenario che si presentava sabato sera era quello che potete vedere. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.